Io non ho mai sentito lì a parlare, tu sei bravissimo, guarda te, se lo conosco bene. Grazie, applausi, e quando le chiedono parlare, non lascio una mano, non so che lui ci stanno. Quando uno si sente in carta bene, si sente in carta bene, punto. Grazie di voi, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie.